Io stamattina sulla base di una valutazione personale ringraziando i colleghi ho comunicato le mie dimissioni revocabili di cui ovviamente il gruppo insieme al segretario del PD hanno preso atto, fatto con grande serenità, con grande convinzione, oggi noi siamo in condizioni di aprire una fase nuova, le mie dimissioni hanno lo scopo di mettere tutti di fronte alle proprie responsabilità. Qualcuno dice che dietro questa manovra del sondaggio ci sia stato dietro il governatore Zingaretti, ieri lui ha risposto con un hashtag, ci vuole lasciare anche lei con un hashtag? Non me ne viene in mente uno, potrei mutuare quello del presidente Zingaretti che è stato trascinato in maniera sbagliata e anche volgare in questa vicenda, io penso che ce la possiamo fare, siamo ad un anno e mezzo di questa amministrazione, abbiamo tre anni e mezzo davanti, con grande umiltà ma con grande concretezza dobbiamo voltare pagina. Grazie a tutti.